Senti, tu che sei anche in nazionale, hai vissuto indirettamente la non qualificazione al mondiale, è un momento di ripartenza per il calcio italiano, questo può avere secondo te un forte valore simbolico, questa vittoria dalla Roma? Sì, ma io penso che con l'Italia ci rialzeremo, perché abbiamo le basi per rialzarci. Questa è una cosa grandiosa, gli unici italiani. Come tu lo immagini di torno a Roma, ci sarà una festicciola, credi? Penso che per fare cinque metri ci metteremo due ore, però abbiamo vinto anche per questo, per riabbracciare tutto il popolo romano. Il sorriso di Spinazzola significa tanto, è la vittoria ma non solo, è anche qualcosa di importante a livello di persona. C'è Morigno con Angelo Mangiante, Angelo, eccoci, eccoci.